Musica Rifiuti tossici e biomasse a venire a fondo al colpo. Reportage del quotidiano della CEI che denuncia gli stimolisi per rifiuti tossici ed impianti a biomasse. Le centrali di Campochiaro vengono descritte come intreccio tra politica e affari. Mobbing, proposta di legge contro insidia al lavoro. Fusco, Bevella, Lattanzo e Sabusco presentano un pacchetto di norme a tutela dei lavoratori oggetto di soprusi. Prevista anche l'istituzione di un osservatorio regionale. Deficit sanità aumentano IRPE e FDIRAP anche per il 2014. Tassi aumentate per coprire disavanzo economico nel settore della sanità molisana a pagare cittadini ed imprese. Turismo archeologico, risorsa del Molise. Dopo la scoperta dell'insediamento neolitico a Venafro, si lavora ad un progetto per portare regione visitatore e promuovere anche il sito paleolitico di Sernia. Musica Edizione della domenica del nostro telegiornale. Bentrovati in apertura. Torniamo a parlare di rifiuti tossici e di centrali a biomasse. Il quotidiano a Venere con un reportage pubblicato nell'edizione online avvenire.it denuncia la situazione del Molise fra criminalità politica e affari. C'è a rischio la salute dei cittadini. Sentiamo. Rifiuti tossici in Molise è una polveriera e risico degli inceneritori tra politica ed affari di famiglia. I titoli dell'edizione web dell'Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, accendono i riflettori sulla questione dello smaltimento dei rifiuti tossici in Molise. Piccola regione che, secondo Avvenire, è fortemente a rischio, anche perché il fenomeno continua a navigare nel sommerso della chiarezza. Il quotidiano, nell'approfondimento pubblicato sul web, parte dalle dichiarazioni del pentito di Camorra, Carmine Schiavone, sulle destinazioni dei rifiuti tossici trafficati e sversati clandestinamente. In tutto il Matese, fino alla zona di Benevento, ha detto Schiavone, fino al 1992 noi arrivavamo come clan dei Casalesi, nel Molise, fino a Iserne, zone vicine. Con ferme saltate fuori durante gli scavi nel terreno di strada di Cupra, zona del Venafrano, con rifiuti scoperti a 5 metri di profondità. Insomma, sembra notte abbastanza fonda anche in questa piccola regione, scrive Avvenire, e sembra che anche qui nessuno se ne preoccupi troppo. Molte cose effettivamente non tornano, le preoccupazioni stanno prendendo corpo e troppi bambini si ammalano di tumore. Così le mamme per la salute e l'ambiente di Venafro si sono mosse già sei anni fa. Hanno raccolto una foglia di fighe e l'hanno spedita alla Nanodiagnostic di Modena, ma perché fosse analizzata. Risultato, l'inquinamento sulla foglia induce a prendere precauzioni per l'ingessione dei prodotti dell'orto dell'agricoltura cresciuti nella zona. Responso senza appelli, rifiuti inceneriti sono tossici, possono provocare tumori. E del resto in tutta la regione esistono pesantissime situazioni dal punto di vista ambientale, da Campomarino ai fussi di Venafro, dai pozzi di Cerce Maggiore allo scantinato di Castelmauro, con migliaia di bidioni tossici recentemente spostati alla discarica di Guglionesi. Ed è in questo quadro, secondo Avvenire, che nasce il tire e molla per costruire due centrali a biomasse, altri inceneritori in sostanza a Campochiaro, ai piedi del massiccio del Matese. La gente è molto arrabbiata, centrali a biomasse qui non servirebbero. E poi, scritto testualmente nel reportage di Avvenire, tutti ripetono la stessa cosa. Una di quelle due è riconducibile al governo teoremo lisano, Paolo Frattura, che è ex socio dell'attuale amministratore della ditta che dovrebbe costruire la centrale di Campochiaro, e al quale il presidente della regione aveva ceduto gratuitamente le sue quote, ex socio che è anche marito del capo di gabinetto in regione, nominato proprio da Frattura. E il giornalista del quotidiano della CEI ha provato a chiedere spiegazione all'amministratore della Civitas, la società titolare delle autorizzazioni, Luca Di Domenico. Ammetterà la stranezza che a costruire qui sia proprio l'azienda del marito della direttrice generale della regione, nominata dallo stesso governatore che aveva autorizzato la costruzione di questa centrale ed ex suo socio, risposta stizzita. In Italia non c'è libertà di impresa? Altra domanda del giornalista di Avvenire. Certo ci mancherebbe, però ripeto, non le sembra strano che a parte e sub a parte in questo paese risultino essere troppo spesso affari di famiglia e politica? Altra risposta sempre più stizzita. In Italia non c'è libertà di impresa? Terza domanda. Va bene, va bene, lei però di certo sa come ogni rivelazione mostri come nella popolazione residente intorno alle centrali a biomasse aumentino le incidenze tumorali. Stavolta Di Domenico riferisce il giornalista Tagliacorto. La nostra conversazione si chiude qui. Ultima risposta di chi non ha molto da dire. Cambiamo argomento. Creare una legge regionale per i lavoratori vittime di mobbing e la proposta dei consiglieri Fusco, Lattanzi e Sabusco che parlano anche di istituire un Molise in osservatorio regionale. Sentiamo Marcella Taburelli. Sono in aumento ogni giorno di più i lavoratori vittime di mobbing e di pressioni psicologiche da parte dei datori di lavoro e dei colleghi. In una società sempre più frenetica e dove si lotta per il lavoro, le vittime da sacrificare sono quelle persone che devono essere allontanate dalle aziende esercitando su di loro vere e proprie azioni vessatorie. Da alcuni anni, anche in Italia, si è diffuso infatti il fenomeno del mobbing dall'inglese to mob, assillare. Ma il sistema giuridico ancora fa poco per tutelare queste vittime. In Molise manca addirittura una legge in materia. I consiglieri Angela Fusco-Perrella, Nunzia Lattanzio e Giuseppe Sabusco hanno presentato una proposta di legge per salvaguardare la salute psicofisica dei lavoratori pensando anche alla creazione di un osservatorio permanente sul mobbing. Le azioni di pressioni psicologiche portate avanti nei confronti di alcuni lavoratori spesso solo per il loro rifiuto di sottostare a proposte immorali e illegali possono sfociare in disturbi psicopatologici seri e stati depressivi con ansia, stress, nervosismo, rabbia arrivando, in casi estremi, al suicidio. Dall'ultimo studio effettuato dall'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro su 21 milioni di occupati, un milione e mezzo di lavoratori italiani risulta essere vittima di mobbing. Il Molise ovviamente non fa eccezione. I tre consiglieri Fusco, Lattanzio e Sabusco hanno deciso di presentare la proposta di legge per garantire la dignità umana e il diritto di ogni individuo a salvaguardare la propria integrità psicofisica con l'obiettivo di tutelare le persone nell'ambiente lavorativo. Nella proposta di legge hanno sottolineato i tre inquilini di Palazzo Moffa è prevista l'istituzione dell'osservatorio regionale sul mobbing per fornire attività di consulenza, il monitoraggio e l'analisi del fenomeno, realizzare progetti e campagna di informazione e sensibilizzazione promosse insieme alla Regione. Inoltre, hanno concluso i consiglieri, saranno messe in campo azioni di assistenza medica, legale e psicologica in favore di tutti i lavoratori vittime di mobbing. Siamo alla cronaca, a distanza di pochi giorni un altro nigeriano che con il progetto Mare Nostrum vive in Molise è stato arrestato per lesioni, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. L'uomo ospitato in una struttura a Rocca Lavindola è iniziato a protestare per i ritardi nel pagamento del sussidio statale concesso ai migranti, prendendo di mira il proprietario della struttura. I familiari di quest'ultimo, spaventati, hanno subito chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuto il nucleo operativo radiomobile di Venaflo che è arrestato in nigeriano, che aveva anche opposto resistenza. Il proprietario della struttura di Rocca Lavindola era ricoverato all'ospedale di Isernia mentre la persona africana è in carcere. Scontro fra due auto, un Alfa 59 e un Apolo, si è ieri sera sulla provinciale tra San Martino in Pensilis e Porto Cannone. Tre le persone che sono rimaste ferite. Vedete la foto di una delle auto. un 26enne di Porto Cannone, una coppia di San Martino in Pensilis. Le auto hanno riportato incendi danni per l'impatto molto forte ed è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco in quanto uno dei feriti è rimasto incastrato fra le ramiere. Tutte e tre le persone sono state trasportate all'ospedale Santimotio di Termoli dal 118 e dalla Misericordia. ad avere la peggio sono stati proprio i due conugi di 55 e 51 anni che hanno riportato diversi traumi sul posto anche polizia e carabinieri per i rilievi. Voltiamo pagina. Doppia soddisfazione per Vito Gamberale, il manager di origini molisane già al vertice di telecom ed autostrade. ha avuto l'assoluzione a Milano nell'inchiesta sulla vendita dell'aeroporto e ha raggiunto un accordo con la F2I, società di infrastrutture di proprietà del Ministero del Tesore di cui era amministratore delegato. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Doppia soddisfazione per Vito Gamberale, manager di livello nazionale, assiduo frequentatore del Molise e di Agnone in particolare. La prima buona notizia è che sarebbe di 3 milioni di euro la liquidazione per gli anni passati come amministratore delegato di F2I, il Fondo per le Infrastrutture, messo in piedi nel 2007 dalla Cassa Depositi e Prestiti. La trattativa è stata complessa, visto che la richiesta iniziale di Gamberale sarebbe stata intorno ai 9 milioni. La seconda buona notizia è che si è concluso con tre assoluzioni, tra cui quella dell'ex amministratore delegato di F2I, sempre lui Vito Gamberale, il tormentato procedimento giudiziario su presunte irregolarità nella vendita nel 2011 di quasi il 30% delle quote di SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, da parte del Comune di Milano, al Fondo di Gamberale, che si occupa di infrastrutture. Un'inchiesta che è stata tra quelle finite al centro del duro scontro tra il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati e l'aggiunto Alfredo Robleto. Per un ritardo di mesi nell'assegnazione del fascicolo, su cui tra l'altro sta indagando anche la procura di Brescia. Appena uscito dall'aula, dopo la lettura dell'ordinanza del GUP a Anna Maria Zamagni, Gamberale, difeso dagli avvocati Angelo ed Enrico Giarda e che si era dimesso proprio pochi giorni fa dai vertici di F2I, si è sfogato, accusando anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, da lui definito addirittura un poveruomo, contestando così la decisione del Comune di costituirsi parte civile. Io penso che Milano beriti peraltro, perché qui si sono voltate le spalle a chi ha aiutato il Comune, ha aggiunto Gamberale, che ha usato toni forti anche per commentare la soluzione. La giustizia si è avverata in Italia, abbiamo sofferto per due anni e mezzo, ha detto, e l'Italia non può tenere in piedi un giudizio di questo genere per due anni e oggi è venuto finalmente fuori che non c'era nullo, il vuoto torricelliano. I sindacati di settore CISAL, CISRE, UIL, tornano a segnalare i ritardi nel pagamento degli stipendi per i lavoratori dell'azienda di trasporto ATM. I lavoratori devono ancora percepire lo stipendio di settembre, nonostante, dicono i sindacati, le risorse siano state accreditate dalla Regione, ente a cui le stesse organizzazioni chiedono in qualità di titolare del contratto di servizio di sanzionare il comportamento dell'azienda. E parliamo ancora di temi economici, brutte notizie per i molisani, aumentano, restano alte, IRPEF ed IRAP per coprire il deficit della sanità nella nostra Regione. Sentiamo. Con la crisi economica in cui è sprofondata l'Italia, l'unico settore che continua a registrare un incremento è quello delle tasse. Nonostante la disoccupazione e il precariato alle stelle, le tasse aumentano e nessun cittadino può sottrarsi al loro pagamento. L'Agenzia delle Entrate del Molise proprio in questi giorni ha comunicato l'aumento dell'IRPEF e dell'IRAP. I molisani saranno infatti costretti a pagare lo 0,15% in più per l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, e lo 0,30% in più per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF. La variazione è stata definita dopo le analisi del tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato Permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dalle quali è emerso che il Molise non ha ancora raggiunto gli obiettivi contenuti nel piano di risanamento economico del settore sanitario, confermando la sua situazione debitoria. Toccherà quindi ancora ai molisani pagare con l'aumento delle aliquote IRPEF e IRAP. Il calcolo, hanno comunicato dall'Agenzia delle Entrate, potrà essere effettuato scegliendo tra due procedimenti, il metodo storico e quello previsionale. Per maggiori informazioni si può contattare l'Ufficio Relezioni Esterne dell'Agenzia delle Entrate del Molise. Il paleolitico di Isernia, dopo la scoperta del sito neolitico a Venafro, apre nuovi prospettive per il turismo culturale in Molise. Per questo, l'iniziativa del Centro Europeo di Ricerche Preistoriche di Isernia di portare studenti e famiglie a visitare i reperti della Pineta assume maggior valore. Giornata del paleolitico aperta a studenti e famiglie e così il CERP, Centro Europeo Ricerche Preistoriche di Isernia, ha voluto aprire le porte del museo a curiosi, alunni e studenti. Una bella iniziativa che serve al rilancio di una struttura museale di un sito che, se ben promossi a livello divulgativo, potrebbero garantire notevoli sviluppi economici e turistici sia per Isernia che per il Molise. Questa è una prima manifestazione che vuole coinvolgere direttamente le scuole. Una manifestazione, come ha detto bene, che è stata promossa dal Centro Europeo di Ricerche Preistoriche di Isernia in collaborazione, sempre stretta, con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e, in questo caso, anche con l'Università del Molise. È un'iniziativa che vuole promuovere la preistoria nelle scuole ma tutti gli utenti, singoli, visitatori, famiglie, docenti, per avvicinare naturalmente il grande pubblico a conoscere quelli che sono i temi della nostra storia più antica, capire appunto come si è evoluto l'uomo, come si è formata la terra e penso che il messaggio più diretto sia dato dalla dimostrazione pratica di archeologia, cioè riprodurre sperimentalmente effettivamente come l'uomo viveva. solo così il visitatore magari poco esperto può toccare con mano e capire direttamente quali sono le problematiche e le sfaccettature che è un tema così ampio o degli argomenti così importanti possono permettere di riportarci indietro nella nostra storia. Avete organizzato diverse dislocazioni in questa giornata bambini, ragazzi, studenti cosa fate vedere a queste persone? Ci sono diverse postazioni divise tra la struttura del museo e la struttura del Centro Europeo di Ricerche Preistoriche. In realtà partiamo proprio con il riconoscimento dei fossili, la paleontologia, la formazione della crossa terrestre, come si riconoscono le rocce, l'utilizzo dei microscopi, quindi i partecipanti sono spettatori ma anche partecipatori diretti. Poi c'è una postazione appunto dedicata alla scheggiatura della pietra che riproduce sperimentalmente come l'uomo scheggiava la pietra, come produceva i manufi, fatti, come li utilizzava, quindi anche l'evoluzione manuale e intellettiva, cognitiva che ha avuto l'uomo nel corso della sua storia. Una postazione dedicata all'arte preistorica, al gioiello della preistoria perché l'uomo affinando le sue tecniche poi ha sviluppato un simbolismo che è collegato appunto alle prime rappresentazioni artistiche, ai pigmenti, ai disegni che si arricchiscono di significati simbolici. E poi naturalmente un laboratorio diciamo di evoluzione dove riproporiamo delle riproduzioni di crani fossili per capire come ci siamo modificati nel tempo. Tecnologie avanzate per tutelare i lavoratori pazienti esposti alle radiazioni di questo si è parlato durante un corso di aggiornamento dovremmo avere le immagini il rischio da radiazioni ionizzanti questo il titolo eccole qui organizzato dalla fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso in seguito alla continua evoluzione delle tecnologie in ambito diagnostico e terapeutico hanno commendato gli organizzatori la protezione sanitaria ha assunto sempre maggiore importanza adesso parliamo del Fiaba Day che ha fatto tappa anche a Termoli una manifestazione per sensibilizzare contro l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche sentiamo Fabrizio Chionero ricordare l'importanza dell'accoglienza quale valore ineludibile per lo sviluppo di una società aperta inclusiva e coesa in grado di garantire la partecipazione attiva di tutte le persone il Fondo Italiano per l'abbattimento delle barriere architettoniche ha organizzato numerose iniziative per sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni e i cittadini su questo tema il Fiaba Day si è svolto anche a Termoli grazie alla collaborazione tra la Capitaneria di Porto il Comune le scuole del Terzo Circolo e le associazioni sportive e di volontariato io vengo già dal settore dell'arte marziale e karate quindi i ragazzi fanno dei percorsi ginnici quindi tutto un lavoro che facciamo è la preparazione più che atletica quindi i vestimenti abili riescono a fare percorsi come i ragazzi normali tranquillamente non devono vedere la disciplina come karate solo diciamo come da compattimento cioè il karate è tutt'altro visita del porto un giro a bordo del Peschereccio e altre attività organizzate negli spazi della Guardia Costiera per coinvolgere i ragazzi e rinnovare una sinergia di intenti sul territorio ho immaginato di coinvolgere coloro che della solidarietà si nutrono cioè il popolo di mare e come immaginavo la risposta dei pescatori è stata immediata per generosità e per slancio presenti presenti il sindaco Angelo Sbrocca il vice Maria Chimissola preside Emilia Mastronardi e responsabili delle associazioni hanno preso parte all'iniziativa anche i giovani migranti accolti in città così il presidente di Fiaba Onlus Giuseppe Trieste se noi ragioniamo un attimo le nostre città non sono fatte né per i bambini né per gli anziani allora noi abbiamo necessità di costruire il nuovo che sia accessibile per tutte le persone ognuno nella propria diversità e allora troveremo la qualità percepita adeguata al bisogno di oggi e questo ci aiuterà anche a modificare il vecchio non dobbiamo pensare di abbattere sempre le barriere ma dobbiamo costruire il nuovo soprattutto senza barriere ed era l'ultimo servizio del nostro telegiornale grazie a voi come sempre per aver scelto l'informazione di Telemolisi arrivederci grazie a tutti